Per le palle dorate di Grugni! Ah, che gran soddisfazione! To Isabella, but he is certain the loved leader longest. Sono quasi impressionato! Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti e rivoglio la mia assa indietro! Marinai e terragioni, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questo nuovo episodio del Diario di Bordo del Capitano, la rubrica che vi porta alla scoperta dei Reami Mortali. Benvenuti a questa nuova puntata, ben ritrovati amici della Guida Galattica per Modellisti che ci seguite. E quest'oggi vi voglio parlare delle dinastie dei Soulblight Gravelords, così come sono descritte nell'ultimo Battle Tom pubblicato, che è anche in realtà il primo Battle Tom così nominato Soulblight Gravelords. Abbiamo cinque dinastie, cinque diciamo stili di gioco e di lore all'interno del libro, tre sono delle dinastie vere e proprie e due sono parti delle vecchie legioni che derivano dalle Legions of Nagash. Tra le dinastie abbiamo la Castellai, la Vikros e la Vengori, e tra le Legioni abbiamo la Legione della Notte di Manfred von Karsten e la Legione del Sangue di Neferata. Ma iniziamo questo excursus nella natura dei Vampiri dei Reami Mortali partendo dalla prima delle dinastie che è quella della Castellai. Perché vi parlo subito dei Vampiri Castellai? Perché i Castellai sono i Vampiri che hanno più rimandi al Vecchio Mondo, non sono altro che la versione dei Reami Mortali dei Draghi Sanguinari. Castellai non è una dinastia vera e propria nel senso che non si nasce Castellai, ma si viene trasformato in Castellai, ovviamente ricevendo il bacio di sangue da un Vampiro di questa dinastia, oppure un Vampiro di un'altra dinastia può decidere di abbandonare la propria per seguire il credo dei Castellai e quindi diventare a tutti gli effetti un membro di questa dinastia. Proprio così, perché come fu per i Draghi Sanguinari, anche i Castellai hanno un rigido codice d'onore, che seguono strenuamente ma che in realtà è un po' di facciata, perché quando vengono messi alle strette o quando non riescono a controllarsi, abbandonano l'onore per la ferocia e la sete di sangue tipica della natura vampirica. Il capo non indiscusso e sinceramente anche non tanto benvoluto di questa dinastia è il Principe Vordrai. Il Principe Vordrai era un vampiro, è un vampiro che tentò di sfidare Nagash perdendo e che Nagash maledisse legandolo magicamente alla fortezza nota come Rocca Cremisi. Siccome Nagash vedeva comunque in Vordrai un essere estremamente forte e che poteva tornare utile al proprio scopo, decise quindi di non ucciderlo ma di sostanzialmente tenerlo al guinzaglio. Vordrai non può abbandonare, non può allontanarsi troppo dalla Rocca Cremisi, tant'è che questa fortezza, che è anche la sede principale della dinastia Castelai, un po' come il Castello di Dracula della serie Castlevania, può viaggiare nei reami mortali, apparire e scomparire e a piacere del Principe Vordrai. Perché vi dicevo che Vordrai non è un sovrano benvoluto? Perché in realtà molti vampiri che hanno ricevuto il bacio di sangue da Vordrai erano in realtà eroi umani di diverse regioni dei reami mortali che erano venute a Rocca Cremisi per sconfiggerlo. Perdendo lo scontro, Vordrai scelse tra i suoi sfidanti quelli più valorosi e decise di maledirli trasformandoli in vampiri. Quindi, nonostante lui sia il più potente, tra i più potenti comunque dei vampiri di questa dinastia, non è ben visto da molti vampiri che sono stati appunto creati dal suo bacio di sangue. È diventata comunque una sorta di quasi modo di fare tipico del vampiro Castelai che se affronta un avversario non vampirico di grande prodezza, di grande prodezza marziale e forza spirituale, un vampiro Castelai può anche decidere di non ucciderlo, ma addirittura di tentare di apprendere dal suo avversario sconfitto delle nuove nozioni di guerra per diventare un guerriero sempre più potente. I Castellai, le armate dei Castellai, sono ovviamente quasi esclusivamente composte da cavalleria tra cui spiccano le unità di Blood Knights, di Cavalieri del Sangue, e le unità di Cavalieri Neri Scheletrici. Disdegnano l'utilizzo della fanteria a meno che non sia strettamente necessario. Parlato appunto dei Castellai, che abbiamo detto che è una dinastia un po' più generica, andiamo alle due dinastie che io definisco delle chicche, la Vicros e la Vengori. La dinastia Vicros noi l'abbiamo vista con l'uscita del maledetto Warhammer Quest Corset City, Warhammer Quest Città Maledetta, dove gli avversari principali sono appunto Raducar, Rilluto e la di vampiri della dinastia Vicros. I vampiri della dinastia Vicros vengono praticamente dalle tundre e dalle foreste gelide di Shaish. Si dice che la prima Vicros tuttora in vita, la vampira nota come Bella Dama Volga, sia diventata vampira non tanto perché abbia ricevuto il bacio di sangue da un altro vampiro, ma perché abbia fatto un patto di sangue con una God Beast non morta nota come Urnspool. non sappiamo bene come è andato questo rituale, comunque fatto sta che Bella Dama viene poi quindi maledetta con la maledizione Soul Blight che ha una spiccata, nel caso dei Vicros, una spiccata tendenza alla ferocia e ad assumere la forma di lupo, tant'è che gli studiosi dei Reami Immortali pensano che molte leggende che vogliono che i vampiri abbiano la possibilità di trasformarsi in lupo siano basate appunto su avvistamenti o comunque su rapporti avvenuti e avuti con i vampiri della dinastia Vicros. I vampiri della dinastia Vicros sono estremamente bestiali ma, come poi vedremo anche per la dinastia Vengori, tendono a staccarsi dai Diaborant Gold King delle Flesh Heater Courts, tentano di mascherare la loro ferocia spacciandosi comunque per nobili, quindi cercando comunque di vivere all'interno della società ma questo vale soprattutto per i vampiri minori che continuano ad avere un aspetto quasi totalmente umano. Gli anziani della dinastia Vicros sono quasi più lupi che i vampiri, tant'è che se osserviamo Bella Dama Volga praticamente dà la vita in giù a sostanzialmente le gambe, le zampe da lupo. Le corti della dinastia Vicros sono piene di lupi, di lupi zombie, di dire wolves, vagano tranquillamente nelle loro corti e i vargskir cacciano attorno ai loro territori assieme a tutti quei vampiri Vicros che decidono volontariamente di abbandonare il senno per cedere agli istinti bestiali e predatori della propria natura. Le armate dei Vicros quindi ovviamente fanno un largo uso di non morti in quantità ma soprattutto di lupi zombie e di altre bestie vampiriche. La dinastia degli Avengori di cui vi ho già accennato qualcosa nel video unboxing di Lao Kavai è forse la dinastia che unisce, se vogliamo fare dei paragoni col vecchio mondo, la dinastia dei Necrarchi e la dinastia degli Strigoi. Perché? Gli Avengori sono vampiri che hanno ceduto al loro lato bestiale vampirico poiché i loro capostipiti, i primi vampiri della dinastia Vengori, quindi i primi Vengorian Lord erano dei vampiri estremamente esperti nell'utilizzo della magia di Shaish che avevano intrapreso una sorta di pellegrinaggio passando tra i vari realm gate fino ad arrivare a Nagashizar per far sì che potessero assuefarsi a poco alla volta al potere del vento di Shaish. Tuttavia durante il loro peregrinaggio accade l'evento catastrofico che conosciamo come necrosisma e questi vampiri vengono investiti da una sorta di equivalente di bomba atomica, quindi una sorta di radiazioni incontrollate del vento di Shaish che li trasformano irremediabilmente, li trasformano, adesso sono vampiri estremamente mostruosi, i Vengorian Lord sono dei libri mostruosi tra drago, creatura, pipistrello e vampiro che rifugono la luce e vivono nei propri regni al di sotto delle dune dei deserti di Shaish. I loro palazzi non sono quindi dei palazzi costruiti in altezza come i palazzi delle altre dinastie ma sono costruiti all'interno di grotte al di sotto della terra. Differiscono dagli strigoi perché nonostante possano tendere alla pazzia e a una bestialità dovuta anche al fatto che il loro lato bestiale è irrimediabilmente già venuto fuori a differenza dei Vigros che possono controllarlo, ritengono comunque di avere un certo controllo sulla propria mente. Molti vampiri della dinastia Vengori che non hanno ancora fatto patto, sono scesi a patto con la loro mostruosità addirittura rifugono gli specchi perché dovete sapere che i Soulblight si riflettono normalmente con gli specchi nei reami mortali, il fatto che un vampiro non si riflette in uno specchio è semplicemente una nota di folclore che non è vera. Col passare del tempo le ultime generazioni di vampiri della dinastia Vengori hanno deciso di abbracciare la loro mostruosità facendo anche dei rituali atti a stuzzicarla e a farla esplodere il prima possibile. Alcuni vampiri che non cedono alla trasformazione o la cui trasformazione in mostruosità tarda, cosa che è una cosa inaccettabile all'interno della società, a Vengori, si possono essere sottoposti a un rituale noto come Masranga. Il vampiro non trasformato in bestia viene incatenato e lasciato per tutto il tempo necessario al di sopra di una pozza di sangue ribollente che è un po' una cosa che per quelli di voi che hanno giocato a The Witcher 3, l'espansione Blood and Wine, che vi farà venire in mente qualcosa facendo sì che il vampiro cede il prima possibile alla sua natura predatore vampirica e si trasformi quindi in un Vargeist. Un altro rituale che serve anche a creare di un nuovo Vengorian Lord è un rituale che consiste nel rinchiudere un vampiro all'interno di un sarcofago incatenato vicino a un Realm Gate noto come la mandibola del vuoto e lasciarlo lì per dieci giorni e dieci notti. Alla fine di questo periodo di tempo, se il sarcofago sarà distrutto, il vampiro si sarà quindi trasformato, inebriandosi delle energie di Shaish che derivano da questo Realm Gate, sarà trasformato in un Vengorian Lord. La maggior parte delle volte invece però il vampiro soggetto a questo tipo di rituale non ha la forza necessaria per resistervi e semplicemente si trasforma in polvere. Le ultime due dinastie di cui vi parlo sono appunto la Legione della Notte di Manfred von Karsten e la Legione del Sangue di Neferata. Grazie a questo nuovo libro abbiamo delle informazioni in più, soprattutto per quanto riguarda i vampiri del seguito di questi due grandi personaggi. La Legione della Notte di Manfred von Karsten, che nei primi periodi, prima dell'arriva dei Night Tont, era utilizzata come arma di terrore da Nagas, adesso è sostanzialmente il colpillino svizzero del Gran Necromante. Manfred von Karsten è il vampiro più senza scrupoli, il vampiro più cinico, il vampiro più macchiavellico dei reami mortali e quindi è un personaggio che Nagas può utilizzare per compiere un sacco di compiti tra i più disparati. Lo stesso cinismo, lo stesso amore per i sottosfuggi e la stessa indole a pugnalare le spalle ai propri alleati viene passata da Manfred von Karsten ai suoi vampiri della nuova dinastia von Karsten. Ricordiamoci che questo libro ci conferma, con mia somma gioia aggiungo, che Manfred von Karsten è ufficialmente l'ultimo von Karsten rimasto, arrivato nei reami mortali e quindi tutti i von Karsten che esistono nei reami mortali sono su afrogenie. Esattamente come Manfred, i suoi generali sono personaggi senza scrupoli che utilizzano anche le tattiche più bieche, che non vedono assolutamente nessuna utilità nell'avere dell'onore in battaglia, ma fanno di tutto per vincere le proprie guerre. utilizzano un sacco di fanteria non morta, non tengono una milizia fissa come può fare la legione del sangue perché non importa assolutamente da dove vengono i non morti che utilizzano per le loro guerre o se hanno l'armatura più o meno pulita, l'importante è che siano sacrificabili per raggiungere lo scopo ultimo, esattamente come fa Manfred von Karsten. Lo stesso von Karsten è estremamente furbo perché si circonda nella sua corte dei più valorosi e dei più promettenti di questi vampiri. Questo perché ha bisogno di tenerli sotto controllo per evitare che qualcuno provi a pugnalarlo alle spalle, esattamente come lui fece con successo con il suo progenitore Vlad von Karsten e ogni e ogni sonno. Fino ad adesso nessun vampiro della dinastia von Karsten, per quanto si senta furbo, macchinatore, manipolatore, è riuscito a uccidere o semplicemente anche a scalfire o a preoccupare il proprio signore, il signore della regione della notte, Manfred von Karsten. La regione del sangue invece è governata da Neferata. Piccolo appunto, il libro dei Soulblight Gravelords ci conferma che la maledizione Soulblight non è nativa dei reami mortali, ma semplicemente è stata portata nei reami mortali da Manfred e Neferata. Quindi loro sono la causa per cui ci sono i vampiri nei reami mortali. Come ben sapete, Neferata è colei che sostanzialmente creò la maledizione del vampirismo, anche con lo zampino di Nangash. La legione della notte è una legione estremamente presente all'interno della società umana e non solo, di quasi tutti i reami mortali. Ogni regno umano, che sia una cities o che sia un regno di caotici, ha un infiltrato della corte di Neferata al suo interno, dalla Varangard, dalla Varanspire, alla città di Excelsis, anche ad Ansir. Ovunque ci siano degli intrighi politici, dei giochi di potere, ci sono dei vampiri della dinastia e della legione del sangue. La nostra Neferata sceglie come suoi vampiri quasi esclusivamente donne, ma a volte può decidere di dare il bacio di sangue anche a membri di sesso maschile, a individui di sesso maschile che lei trova particolarmente promettenti a livello politico. Al contrario della legione della notte, le armate della legione del sangue, oltre a disporre di un numero fisso di cavalieri del sangue, ha una milizia vera e propria, con tanto di livrea e blasoni, sia di scheletri che di guardiani dei tumuli. E' una milizia fissa che viene resuscitata tutte le volte che viene distrutta. Quindi tende ad avere una sorta di indole più marziale, una via di mezzo tra i castellai e la legione della notte, e quindi anche un aspetto più curato a livello di armate. Ovunque ci siano degli intrighi all'interno della società, ci sono degli agenti o di Neferata. Tant'è che negli ultimi anni, all'interno dell'ordine di Azir, che è l'ordine di cacciatore di streghe, che si occupa di combattere i nemici caotici non morti dei popoli liberi, e si è sviluppata una branca nota come la Clear Blood Brotherhood, che è specializzata nella caccia agli agenti e ai politici corrotti al soldo della regia del sangue Neferata. Con questo arriviamo alla conclusione di questo video riassuntivo delle nuove dinastie dei Soulblight Gravelords. Consiglio a tutti di acquistare questo libro, perché è pieno in seppo di un sacco di informazioni nuove che ci aiutano a calare meglio, a calarci meglio, all'interno di queste dinastie, di come si sono sviluppate le dinastie di Soulblight. Spero, come sempre, di avervi intrattenuto, che questo video sia stato per voi interessante. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, perché per noi vuol dire tantissimo. Se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. E per adesso, dal vostro Capitano Giacomo Uccino, è tutto e alla prossima! Marinai e terraioni, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questa nuova puntata del Diario di Bordo del Capitano, la rubrica che vi porta alla scoperta dei reali mentali. Se avete bisogno di, se volete, richieste, scriveteci su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, aggiungetevi al gruppo Facebook, e se questo video vi è piaciuto, spammatelo ovunque ai vostri amici su Facebook. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi su Facebook, cliccate sulla campanella, in modo da essere sempre aggiornati su Facebook. E per il resto, un saluto, anche questa volta, dal vostro Capitano Giacomo Pita Uncino. Grazie per essere stati con me e alla prossima!